benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi sono qui con la recensione dell'incrociatore giapponese leggero o mono nave che potrete avere a disposizione in due modi diversi prossimamente perché c'è chi aspetterà e lo otterrà durante classico diciamo farming della linea giapponese giocando in maniera completamente gratuita e chi magari si impegnerà giocando le varie missioni della mini campagna durante il lancio diciamo anticipato della linea riuscendo poi a ottenerlo quando completerà l'ultima fase di gioco anche qui in maniera completamente gratuita ma diciamo molto prima avranno avuto oggi di partire quindi dal tier 7 per poi andare avanti prendendo lo scimanto il tier 9 che avete visto la settimana scorsa e infine il tier 10 yodo siamo qua sulla mappa di vicinato per dire neighbors furious control ranger numero importante in acqua di destroyer e sommergibili ormai sono una realtà ormai sono navi all'interno dei vari rispettivi rami navali barra alberi navali quindi a tutti gli effetti ormai bisogna abituarsi a giocarseli contro perché se li si ritrova spesso in partita e c'è poco altro da fare quindi ormai sommergibili sono una realtà all'interno della random e anche credo in futuro di altre modalità di world of worship classico triple cap domination in diagonale ranger nemica spottata dalla nostra furious in navigazione verso nord e giocheremo proprio da questo lato cercando anche di collaborare al possibile con il fubuki al lato che sarà veramente completamente imbarazzante ma soprattutto cercheremo di effettuare delle manovre interessanti con la fuso dall'altra parte con le quali poi cercheremo di interagire per portare diciamo alla vittoria la nostra squadra occhio alla partita perché sarà un certo punto quasi disperata noi spingeremo l'omono al limite massimo delle sue capacità considerando che limiti sono tanti a livello difensivo di questa nave perché veramente è fatta di carta velina si tratta di un incrociatore mai realmente costruito con un'armatura laterale che ha una cittadella da 76 mm sovraesposta super facile da colpire ogni volta che date anche solo l'apparvenza di un brazzo non dico mettersi di fianco dico anche solo essere semplicemente angolati venite brutalmente colpiti in cittadella con questa nave in maniera imbarazzante per quanto riguarda poi il resto dell'armatura ha un pessimo rivestimento di 16 mm a prua e poppa che lo rende super vulnerabile a qualsiasi tiro di corazzata che può spesso trovarvi in totale overmatch che cos'è l'overmatch per ancora chi non lo sapesse è quando una corazzata vi prende a prua o poppa con i cannoni ma colpisce comunque la vostra cittadella grazie appunto al fatto che il colpo penetra la prua o la poppa e va a colpire il cuore della nave per quanto riguarda il compartimento hp mentre stiamo ingaggiando un po questo mio co timido che si sta allargando è un compartimento di 35.350 punti ma con le skill potenziate conservability expert come poi vi farò vedere alla fine della partita nella scheda dedicata altrimenti le hp della nave sono ancora meno per quanto riguarda invece il danno di ruzione sui Thor non esiste è solamente un 4% estremizzato quindi ogni soluro che arriva è dolore altisonante per voi guardate un po il mio occhio ci ha colpito solo tre volte e guardate quanto male ci ha fatto e come potete vedere nei consumabili lo mono non si può curare quindi ogni volta che prendete danni dovete piangere lacrime amare la sua capacità di diciamo di spotting comprende una capacità di mimetismo che è circa oltre 12 chilometri ma con le skill comandanti settate in questo modo questo perché ho messo il potenziamento effettivo dei dei proiettili h e cosa che vi permette di tirare delle salve da 5 6 mila sulle corazzate altrimenti diciamo che è più o meno ridosso degli 11 chilometri full lato per quanto riguarda la velocità massima è 34 nodi e 7 con un timone buono che vira in 740 metri in 7 secondi e 1 per raggiungere la massima efficienza ma anche qua bisogna dire che essendo effettivamente un incrocitore leggero non è poi una grande sorpresa se guardate ora il mio occhio sta tornando un po indietro ma è ormai è oltre la nostra gittata che di 16 chilometri e 100 non sempre sufficiente abbiamo chiesto spuduratamente il supporto all'inizio del fubuki che chiedevamo un semplicissimo e facilissimo smoke ma lui ovviamente non l'ha fatto perché è il classico destroyer egoista che gioca ormai nelle random di world of warship guardate quanto possiamo far male a new messico sulle sovrastrutture guardate un po veriamo leggermente sopra il ponte tutti i nostri torri vanno a tiro guardate quanto possiamo far male quasi 4500 con un doppio incendio voi direte i blizzati ma sei stato fortunato sicuramente le rng ti ha aiutato guardate quanti altri incendi troveremo nuovamente sulla stessa identica nave in un secondo momento guardate anche qua 6500 sommando le due salve con 10 colpi e segno su 11 a un distanza di circa 14 chilometri il colpo di questi canoni è incredibilmente preciso e soprattutto dannatamente pesante come sapete l'incendi e i proiettili hi sono da sempre uno dei marchi di fabbrica della marina nipponica sui cruiser questi cannoni appunto sono quattro torri trinati da 155 mm con una ricarica di circa 13 secondi netti e un brandeggio torri con la skill è migliorata perché è indispensabile qua perché il brandeggio torri è migliorato ovvero è proprio a livello elite arriva solo dal tier 8 in avanti dallo scimanto quindi effettivamente fino al 7 soffrirete un po e le torri che girano e ruotano a 180 gradi in maniera piuttosto lenta guardate qui ennesimo incendio sulla new messico dicevo è questo brandeggio a 180 gradi in 34 secondi 31 secondi e 3 per quanto riguarda la dispersione di soli 134 metri a 16 chilometri e 100 come detto prima impressionante la sua precisione per quanto riguarda la balistica 925 metri al secondo ma attenzione la balistica america è la balistica suerte giapponese comandanti ricorda molto la balistica americana per certi versi salendo soprattutto dal tier oltre questo il tier 8 noterete che il colpo tecnicamente è veloce quando esce dalla canna ma poi quando arriva alla massima altezza ci mette molto più tempo del normale ad abbassarsi è una balistica molto molto strana quella che è a bordo di questi incrociatori leggeri nipponici di nuova tipologia la fire chance è del 12 per cento con la skill migliorata e arriva a un praticamente un penetrazione massima di 26 millimetri con i proiettili a key il proiettile a key arriva tra l'altro 2695 potenziato di danno mentre il proiettile ap 3300 con l'identica balistica del proiettile incendiario questa nave tra l'altro ha una particolarità piuttosto importante per quanto riguarda e incrociatori leggeri perché montano apparecchiatura secondaria è molto raro vedere degli incrociatori leggeri con cannoni secondari ma lui lui ce li ha ha infatti quattro torri binetta da 100 millimetri capaci di sparare ogni 2.9 secondi con 1700 di danno massimo e l'otto per cento di fire chance raggiungendo una distanza di 5.9 chilometri è un'originalità molto molto particolare che appunto lo mono per quanto riguarda i siluri che poi lanceremo un po a caso perché effettivamente vanno un po titrati come delle mini vaganti considerando che vanno veramente lontano sono dei siluri particolari perché arrivano fino a 13 chilometri parecchio per essere un tier 7 hanno poi un danno massimale di 20.967 è uno spot di 1.7 chilometri quindi è un siluro giapponese classico a livello di danno a livello di spotting è un po più lento perché arriva solamente a 57 nodi rispetto a quelli che sono gli standard di velocità dei potentissimi siluri nipponici è un lanciatore da quattro per lato quindi fino a otto siluri se usate entrambi i lanciatori per quanto riguarda il discorso legato comandanti all'air strike ovvero l'attacco antisommergibile ha poi un'altra particolarità rispetto alla maggior parte dei cruiser leggeri lui ha un attacco aereo non ha le classiche bombe di profondità ha un attacco aereo singolo con un rese di 30 secondi che ha sviluppo a 3400 di danno massimo fino a 6 chilometri e attenzione all'air strike ovvero a questo attacco antisommergibile perché lo vedrete soprattutto in azione alla fine della partita fidatevi guardatevi tutta la partita perché il finale sarà a dir poco roccambolesco per quanto riguarda infine la parchettura antiera che vedrete tra poco nuovamente in azione tanto perché la portiera in un certo punto ci attaccherà ferocemente sono dei cannoncini da 25 100 millimetri con 205 di danno continuativo aereo e 1397 di danno radiante fino a 5.8 chilometri quindi è un danno antiera che ci sa tutto anche perché viene ingigantito e potenziato dall'ottimo fighter che è di suo nel senso che lo montano tutti gli incrociatori leggeri giapponesi e non è sostituibile non potete mettere uno scout effettivamente il fighter è il suo fa parte del suo compartimento antiero definito e definitivo per quanto riguarda le caratteristiche di queste navi perché guarda voi il resto dei consumabili a parte più ovviamente abbiamo il damage control nel fighter e diamo un final sonar 120 secondi durata 120 secondi di ricarica in questo caso in caso particolare un type 9.4 con una distanza di spot di 3 chilometri sui siluri 4 chilometri sulle navi e 2 chilometri sui sommergibili queste sono le capacità sonar di questa nave se guardate nonostante all'inizio eravamo messi bene con un netto vantaggio il nemico poi ci ha fatto letteralmente a pezzi nella zona sud dove tra l'altro il sommergibile sta andando a caccia della porteria avversaria con grande successo antichi due sommergibili perché giocano insieme e questa cosa ci sta mettendo un po' in imbarazzo perché la porteria l'aria isolata la sotto non ha possibilità di uscirne il target nemico ha il doppio dei nostri punti a livello di punteggio grazie appunto al vantaggio di aver avuto sempre a disposizione il vantaggio dei cap e quindi non c'è assolutamente nulla da fare per quanto riguarda i punti però come detto prima la partita è ancora particolarmente lunga è arrivato tra l'altro il ciclone questa cosa ci sta un po' dando fastidio perché effettivamente permette al nemico di avvicinarsi completamente in spot e non ha la possibilità di aprire il fuoco occhio tra poco perché la piotril velicic ovvero la battleship tier 5 sovietica sta accorciando noi ancora non lo sappiamo il nostro obiettivo era bene o male quello di riuscire a uccidere le due corazzate e poi andare in push verso la porteria sperando che l'akatsuki scendesse sui cap cosa che però l'akatsuki non farà nella maniera più assoluta attivo allora il fighter per cercare di dare un po' di manforte alla mia king georgia alleata alla mia battleship qui vicino i nostri siluri erano ben indirettati verso la velici che ma nell'ultimo momento vede la nostra formazione vira a destra e a questo punto eviterà i nostri potenti siluri troviamo ovviamente il doppio incendio è una prassi ormai comune di questa nave andiamo in troppo a sinistra perché pensavamo di incrociare la colorado che poteva in qualche modo prenderci in crossfire la nostra priorità è annientare il prima possibile la veloce battleship il suo video che ci sta accorciando verso di noi se guardate la furious e l'akatsuki riescono in qualche modo a uccidere il suo emergibile avversario ma questo comunque porta la kill sulla nostra porta aeree di conseguenza siamo ora senza cv oltre che avere un ritardo di circa 240 punti a un certo punto sembra che la velici che voglia tutti i riferiti accorciare e attaccare la king george ma rimasta mai con pochissimi punti vita contro la battleship inglese a questa distanza non ha nessuna possibilità la king george affonda la velici che è nata giù intanto la colorado grazie all'attacco della nostra torpedo boat nipponia a questo punto non possiamo fare altro che attaccare la porta aeree questo perché se guardate c'è già la fuso e spinta sul cap di B di conseguenza cercare la kill sulla porta aeree non solo ristabilirebbe la parità a livello tattico perché ci elimina il vettore aereo avversario ma soprattutto ci permetterebbe di eliminare dei punti e fare punti considerando che ne abbiamo un disperato bisogno perché siamo sotto in questo momento di circa 160 punti vediamo non uscire in queste fasi la partita sarà un po più lenta perché effettivamente se guardate sono rimaste poche navi ma accadrà ancora tanto tanto nel corso di questo match fidatevi andiamo ora in drop a destra con i siluri questo perché pensavamo che la porta aeree potesse in qualche modo uscire siamo ora spottati da una nave nemica qua il laviere fa l'errore enorme di affrire il fuoco in campo aperto non sappiamo per quale ragione attiviamo il sonar per evitare i possibili lentissimi siluri italiani e poi giù di tramvata che lasciano a solo il 338 il velocissimo caccia torpediniere italiano questo però è virando destra ha dato completamente il fianco all'affuso che non aspettava altro e altra tramvata stavolta la viere ci lascia le penne questo punto torniamo a destra segnaliamo la potenziale posizione della della ranger facile capirlo considerando che gli eri partono proprio da quella dalle dalle diciamo dalla zona nord di quel grande isolotto e questo appunto nuovamente fighter in azione per cercare di abbattere i siluranti della ranger e giù verso la porta aeree per cercare poi di annientarla la fusi intanto è riuscita a conquistare finalmente il cap di b la prima volta dopo circa 13 minuti di partita che abbiamo letteralmente il vantaggio a livello di cap non possiamo altro che effettuare l'ultima spinta sulla porta aeree per cercare poi di annientarla la king george guardate sta facendo un errore gigante quando vengono fatte quasi bisogno di manovre comandanti mai mettere due navi sulla stessa linea se c'è uno scoglio e l'avversario è dietro una prende un lato e l'altra nave prende l'altro così si dovrebbe fare per cercare poi di spingere l'avversario a spostarsi e comunque a finire nelle grinfie di qualcuno la nostra king george diciamo che non sembra avere proprio le idee chiare da questo punto di vista intanto il sommergibile sicuramente si sta spostando sul cap di b e per la nostra fusi ora cominciano guai siri nonostante aeree ormai tira giù aeree in maniera ininterrotta passiamo aeree proiettili ap ci prepariamo a colpire il fianco della leggera porta aeree da supporto americano aspettiamo ancora usare i siluri li utilizziamo solo adesso ma ovviamente la porta aeree poi effettueranno manovra a destra e la maggior parte dei nostri siluri anzi quasi tutti i nostri siluri non andranno a segno devo dire che il fatto appunto che li possa vedere con largo anticipo e soprattutto che siano così lenti ha dato un aiuto notevole alla porta aeree statunitense altri colpi in cittadella portati a poppa il colpo a più di questa nave è piuttosto scarso ha una penetrazione tutta sua anche contro gli incrociatori le altre navi lo si usa raramente io lo mono lo uso quasi completamente full incendi e questo appunto sul più bello quando pensi di avere la nave in pugno ti rubano la kill è un classico delle random battle giocate da blizzard a questo punto anti era tutta piantata a sinistra perché rimane l'ultima squadriglia di informazione della porteria avversario che ormai è stata affondata e mentre la fuso è stata affondata anch'essa dal suo emergibile il nemico ora prende nuovamente il cab di b e si porta nuovamente in vantaggio ora sicuramente qualcuno di voi si starà domandando blizzard ma perché la king george non ha accorciato prima sui cab considerando che questa kill ormai era tua è una bella domanda comandanti chissà perché la katsuki continua a navigare facendo il giro più l'arocano dovrebbe invece andare a conquistare il cab di a anche questa sarebbe una bella domanda che non sappiamo cosa possa trovare di risposta con questi alleati non particolarmente svegli decidiamo ora di andare verso sud incacchiati neri immaginate considerando che siamo riusciti a fare i morti in questa partita ma l'enemico a tutti gli effetti ha il controllo della mappa e sta comunque vincendo la partita perché è in vantaggio di oltre 60 punti e mancano solo 4 minuti e mezzo considerando che non siamo proprio dei fulmini di guerra ad attaccare le basi capite anche voi che il rischio di perderla è notevole perché immaginate se il sommergibile ora andasse sui suduri sulla king george e la fondasse la partita sarebbe praticamente finita ora qui ho cercato un po di medesinarmi in quello che sarebbero stato il movimento del sommergibile avversario ora quasi sempre un avversario cosa avrebbe fatto probabilmente ora avrebbe preso il cab di c questo perché perché avendoci visto l'ultima volta nord contro la ranger poteva magari pensare che fossimo ancora in quella zona e lui avesse matematicamente il tempo di prendere proprio anche il cab di c ecco perché sto puntando sul cab di c mentre la king george con l'akatsuki va verso a mi sarebbe spettato che anche l'akatsuki andasse verso a o magari non so verso verso b per cercare di conquistare entrambe le basi invece non si fide di noi e decide di anch'essa muoversi verso la nostra posizione non ho interrotto il video a questo punto e sto andando avanti fino alla fine perché veramente la kill finale sarà spettacolosa comandanti spettacolosa un culo pazzesco ma anche veramente una kill spettacolosa su un sommergibile perché ve lo spoiler andrà così preparatevi sarà una cosa assurda un colpo distinto e un po di culo con l'attacco aereo dei sommergibili dei antisommergibili ma veramente il fatto che questo cruiser leggero abbia l'attacco aereo antisomme è tanta roba comandanti l'akatsuki con largo ritardo capisce che il cab di c da difendere ma noi c'eravamo già sopra da un quarto d'ora e mentre la king george comincia a bloccare il cab di b noi ci avviciniamo in questa zona per capire un po dove l'avversario ovviamente comandanti stiamo ancora tenendo la nostra arma principale disattivata ovvero il sonar è il nostro ultimo sonar è fondamentale utilizzarlo per prevedere l'arrivo dei sciluri del sommergibile tedesco quindi di conseguenza aspettiamo effettivamente di essere spottati prima di utilizzare questo importantissimo e fondamentale consumabile occhio però perché non servirà a utilizzarlo entriamo nel cab di c il cab non è contestato quindi il sommergibile è ancora lontano non siamo spottati quindi sicuramente è ancora oltre al nostro raggio da spotting la king george è arrivata a metà del cap conquistato ma guardate un po non serve il sommergibile allontanamento bomba di profondità passano neanche pochi secondi colliniamo i cannoni tiro a istinto quando lui è invisibile lo colpiamo incendio medaglia confeder 9 tiri a segno guardate adesso kill partita finita che match ragazzi abbiamo vinto alla fine con questa kill meravigliosa confederate high caliber base di difesa 7 cittadelle tutte sulla porta aerei una kill potevamo fare molto di più ma la king george le ha fregate tutte una fottio di colpi a segno oltre che di aerei abbattuti e ben 8 incendi tanta roba lo buono dal punto di vista offensivo per quanto riguarda lo skill della partita è il seguente oltre 2200 punti con più erano e abbattuti tutto il resto della squadra praticamente dall'altra parte è lo 69 la viere sugli scudi discreta la partita della nostra porta aerei anzi buona direi come anche della portiera aversa che comunque si è fatta valere per il resto solito compartimento destroyer assolutamente patacco nella nostra squadra ma ormai ci abbiamo fatto il callo comandanti per quanto riguarda i moduli e le skill consigliate a bordo dell'omono sono le seguenti sono delle varianti rispetto a quello che vi ho fatto vedere la scorsa settimana questo perché appunto soffrendo un brandeggio torri lento abbiamo messo la skill che aumenta del 15 per cento la velocità di rotazione delle torri abbiamo poi utilizzato il potenziamento dell'attacco antiereo e anche dell'1 per cento in più di far chance dei canoni primari e secondari della nave ovviamente la ricarica migliorata dei siluri e poi come sempre più reti target che considero indispensabile su navi come queste potenziamento poi dei proiettili incendiari con il malus ovviamente del del mimetismo adrenalin rush che è un obbligatorio su tutte le navi e poi solvabilità perché comunque la nave ha pochissimi punti vita giusto avere qualcosa in più non fa male e poi il mimetismo per quanto riguarda i moduli timoneria migliorata precisione migliorata dei cannoni sonar aumentato e poi il modulo numero 1 che è sempre quello ovvero la resistenza migliorata sui moduli come i siluri e le torri torri che tra l'altro vedono poi nella scheda armatura vengono incapacitate con enorme facilità perché l'armatura è estremamente estremamente leggera guardate un po le torri sono solo da 25 mm basta un niente per incapacitarle anche nel combattimento contro altri incrociatori c'è poi un ponte centrale da 25 che va poi a in maniera più sottile a 16 mm a prua poppa c'è poi questo fasciame da 30 che fa tutto il giro dal timone fino alla zona più estrema di prugo ma non serve assolutamente a niente e poi la cittadella sovrasposta da 76 ben oltre la linea di galleggiamento questo vuol dire facili colpi in cittadella per qualsiasi cosa vi colpisca qualsiasi cosa per quanto riguarda l'armatura in cittadella è la seguente è una cittadella appunto altissima da 76 16 mm e rivestimento antitorp vedete un po come la cittadella è estremamente grossa anche per tutta la zona posteriore e anteriore della nave questo fa sì che anche quando vi mettete in kiting se arriva quel colpo nella zona di poppa può effettivamente trovarvi la cittadella in allontanamento quindi è veramente rischiosissimo manovrarlo e va utilizzato a volte anche dentro le isole per cercare di tirare sfruttando le isole come scudo per poi sparare da invisibile ma è estremamente difficile in certi casi quando le isole sono troppo alte è una nave veramente che in campo aperto nonostante sia effettivamente il suo gameplay fa veramente una dannata fatica perché l'armatura è assolutamente pari a zero questo è il bilancio finale dello mono i punti di forza incendia tutto e tutti sudori fino a 13 chilometri antiera decente uno dei pochi cruiser leggeri con l'attacco aereo anti som avete visto quanto può essere importante nella finale di questa partita timone notevole perché comunque è un timone buono per un incrociatore e infine limitismo è gestibile anche con la skill delle h e potenziate superate di poco 12 chilometri è assolutamente una cosa facile da utilizzare durante le random battle basta anche solo magari non essere super sprogiudicati all'inizio della partita e poi cercare un po di giocare di timone tenere sempre la prura in allontanamento per evitare di essere presi diciamo e di sorpresa e poi essere impossibilità di manovrare per disingaggiare i punti deboli sono i formai noti per quanto riguarda la linea dei giapponesi l'armatura è debolissima e proietti la pie inconsistente il siluro è abbastanza lento va a 57 nodi ed è una costante anche tra i tier superiori la citata dei canoni principali non risulta sempre sufficiente 16.1 va bene ancora quando giocate contro i tier 6 7 anche alcuni 8 ma quando giocate contro i 9 può capitare spesso considerando il pacchiano matchmaking che spesso capita nelle random di world of warship specie per il 7 capite anche voi che 16 km 300 è una citata molto limitata e non è aumentabile in nessuna maniera quindi è proprio un numero al quale dovrete fare affidamento per tutta la vostra esperienza con lo mono e infine punti vita limitati e matchmaking indipendente quando giocate contro navi tier 6 tier 7 tier 8 ancora ancora riuscite a gestirlo anche se già contro i tier 8 cominciate a soffrire quando giocate contro i 9 siete oggettivamente carne morta non avete un radar non avete un fumo per difendervi non avete un repair party non potete recuperare i punti vita vi sentite veramente un pesce fuor d'acqua e venite affondati con una facilità disarmante questo perché appunto l'armatura le sue capacità scarse difensive fanno il resto è una nave veramente che secondo me imparerete ad amare ma anche a odiare ci saranno alcuni che l'ameranno perché magari avranno un matchmaking agevolato riusciranno a inarcare quelle 4 5 6 partite che vi fa divertire ma altri che lo odieranno perché magari capiteranno sempre con gli 8 e i 9 verranno affondati facilmente e faranno grande fatica a giocarlo e lo mono è questo o tutto o niente nel senso che vi capiterà la partita nel quale farete dei super punteggi e partite in cui farete veramente poco perché siete impossibilitati a lavorare in mare è proprio fatto così però diciamo che nelle partite giuste può dare delle buone soddisfazioni specie con gli incendi e con i siluri questo è il piccolo grande incrociatore samurai giapponese come adatti io spero che il video vi sia piaciuto se avete delle domande riguardanti la nave fatele pure nei commenti se avrò la possibilità vi risponderò vi ricordo che siamo l'anno durante la settimana del lunedì al venerdì su twitch dopo le 20 tra le 19 e 30 alle 20 fino alle 22 vi invito a partecipare alle nostre live se volete e se avete amazon prime vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale di twitch collegandolo semplicemente da amazon a twitch tenendo quindi prime gaming e quindi ogni 30 giorni potete abbonarvi al mio canale o a qualsiasi altro canale senza pagare niente e darete un contributo entrando nella blizzy squad la nostra squadra abbonati comandanti come sempre spero che il video vi sia piaciuto noi ci sentiamo la prossima ovvero giovedì con l'incrociatore giapponese shimanto come sempre buona caccia grazie a tutti